È cambiata la parte dell'avampiede che il battistrada è molto più duro, quindi credo che anche sul bagnato non avremo problemi anzi. Passo davanti e non dietro per dirmi che questa volta ci troviamo di fronte a una scarpa con un successo internazionale molto rilevante. E non potevo usare una musica migliore, Ride di Clark, per dire che questa scarpa ci porta a spingere davvero molto lontano. Ma partiamo dall'inizio, fin dal 2016-2017 fu introdotto sul mercato il primo modello di Vaporfly Nike, tralascia tutta la storia che sicuramente conoscete già, da Monza a Vienna, dai 25 secondi mancati allo sprint finale di Kikkoja a Vienna in 1 ora 59.40, per dire che finalmente siamo riusciti pure noi a testare o quantomeno valutare l'ultima evoluzione tecnologica Nike, le Nike Alphafly. Scarpa uscita a fine febbraio sul mercato per permettere ai vari atleti Nike di essere utilizzate ai giochi di Tokyo, poi posticipati, si spera, solamente di 12 mesi. Non siamo comunque riusciti a testare in maniera dettagliata, in pista, questa scarpa per questione di opportunità. Il pro depodista direbbe anche per questioni di costo, ma in realtà, siccome siamo recensori, questo l'avremmo fatto utilizzando la mia scarpa. Ne abbiamo avuti due modelli, uno da me acquistato, l'altro regalato ad Andrea dai suoi carissimi amici. Tra l'altro, per avere ulteriori recensioni, vi consiglio, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche, in modo tale che sarete i primi ad avere le informazioni più rilevanti sulle novità delle scarpe podistiche con delle recensioni dettagliate. Veniamo comunque alle specifiche di queste Alphafly, differenziale 4, 40 mm nel tallone, 36 mm nell'avampiede, un leggero aumento di peso, probabilmente dovuto alla quantità ulteriore di zoom X nel tallone, oltre al cambio della suola. Secondo le nostre misurazioni artigianali, ma la nostra bilancia ha testato miliardi di scarpe, parliamo di 214 grammi nella taglia US 9. L'Atomai è invece un'evoluzione delle Flyknit, vista nelle Vaporfly 4%, ma non nelle Next, e qui sappiamo che nulla è perfetto, ma sicuramente si è migliorata la stabilità e il bloccaggio del piede. Due cose fondamentali da dire, la nuova Atomai è in Atomknit, così si chiama, è super traspirante al punto tale che si vede oltre, la potete vedere chiaramente in controluce, al tempo stesso, forse qualcuno dissentirà, questa Atomai sembra leggermente più sintetica rispetto alla Flyknit, un po' meno calza per intenderci rispetto a quella delle Vaporfly 4%. Secondo me invece la parte posteriore del tallone risulta particolarmente bloccata, molto di più che sulle 4%, inoltre come già per le Tempo Next% che derivano da queste, la parte centrale del mesopiede è molto più sottile, nel posteriore invece un collarino aiuta sicuramente a fare in modo che il piede si adagi perfettamente, non so dirvi però se la parte superiore vi possa procurare eventuali irritazioni e vesciche sulla pelle, lo vedremo comunque nelle prossime settimane. I lacci sono particolarmente piatti, soluzione geniale per evitare che la scarpa si possa slacciare durante la gara, l'allacciatura è asimmetrica per una pressione sul collo del piede meno pronunciata, su alcune aree molto meno asimmetrica rispetto alle Vaporfly Next%. Ho amato il rinforzo delle stringhe e qui siamo davvero in un puro marketing, che ci ricorda che queste scarpe ci porteranno al traguardo a rapide falcate. Per non annoiarvi più di tanto vi dirò che la suola è assolutamente simile ma non esattamente uguale a quella delle Tempo Next% ha però la piastra in carbonio ben visibile. Per la prima volta la struttura è simile con una suola abbastanza resistente, i due cuscinetti anch'essi presenti nella parte anteriore aiutano a spingere di avampiede. La quantità di schiuma per vax espansa, chiamata semplicemente colloquialmente Zoom X, è aumentata ulteriormente rispetto a quella delle Next%. Per il resto aspetterei che Andrea partecipi al campionato italiano assoluto di maratona prima di effettuare una recensione completa. Se questo video arrivasse comunque a 5.000 views saremo assolutamente obbligati a fare una recensione completa nel momento stesso in cui questo succedesse. Vi allego qui sotto alcuni link per supportare il canale. Sentiamo cosa ci ha detto Andrea che abbiamo intervistato alla pista di Garbagnate qualche giorno fa. sappiate che non sono d'accordo sulla affermazione che questa scarpa sia 5 volte migliore rispetto alle Tempo Next% anche perché queste ultime costano tra il 30 e il 50% in meno a seconda delle fasi lunari e degli algoritmi dei vari retailers online. Ovviamente Andrea stava esagerando, però sappiate che qua siamo davanti alla migliore scarpa da corsa per gareggiare. Ed ora lascio la parola al prodepodista che abbiamo intervistato, Savasandir, prima del DPCM del 3 novembre 2020, tutto felice e orgoglioso del suo regalo di compleanno. Sentiamo che cosa ci racconta. Vai, attiva. Ciao, sono Andrea. Mi si vede con il cellulare in mano? Ciao Andrea, oggi ti vedo particolarmente sorridente. Bucolico, ciao a tutti. Andrea, come mai ti sei trovato queste scarpe? Allora, questa scarpa me l'ha regalata i miei ragazzi, avevo promesso che li avrei ringraziati anche nel video perché la prima cosa che mi hanno detto è adesso farei la recensione con Milani e così è stato, la prima cosa che abbiamo fatto di sabato. i ragazzi sono qua, non li nomino tutti, uno sta arrivando adesso, mi sta vedendo e starà ridendo come un pistola. Dopo la recensione o dopo l'unboxing che abbiamo fatto delle scarpe Nike, ASICS e Socony, ci hanno chiesto, l'amico di Instagram, il solito amico di Instagram, ci ha chiesto di partire con le Alphafly. Siccome però non ci sono gare, volevo capire cosa ne pensi di queste scarpe dopo averle indossate negli ultimi giorni. Allora, intanto l'amico di Instagram, credo che questa volta sia io, perché ho insistito per fare la recensione di questa scarpa. Non lo so, più la guardo più mi piace, è davvero stranissima. Quello che ho detto nell'unboxing, la sorpresa era poco riuscita perché davvero questa l'avevo già solamente dal tatto del sacchettino ho capito che era lei e vista dal vivo è davvero bellissima. Peccato non aver visto quella nera e verde, ma questo colore mango mi piace un casino, è davvero una gran scarpa. Davvero, vista su internet per me era terribile, vista dal vivo invece è una figata. E quali sono le tre caratteristiche che ti hanno colpito? Siccome sei comunque una persona esperta del marchio Nike, cosa dici di questa scarpa? Beh, intanto lo zoom qua sotto, bisognerà capire sulla prima maratona che faccio quanto guadagno mi potrà dare rispetto a non averlo. Beh, la piastra in carbonio questa volta si vede, quindi non ci possono fregare dicendo che non c'è, che c'è ma invece non c'è. E poi mi sembra che ci sia davvero tanta più zoom X rispetto alla Vapor Next. Magari solamente un effetto ottico, ma mi sembra che davvero ci sia una zeppa clamorosa dietro. Anche la tomaia è davvero particolare, un po' faticosa, io non so se Max ha provato a metterla, di collo è abbastanza stretta, quindi fai fatica a metterla su, a indossarla, però dopo al piede è super perfetta. Mi sembra che l'abbiano migliorata anche rispetto alla tomaia che aveva la prima Vaporfly 4%, perché mi sembra molto più precisa e anche la zona del tallone è un po' più bloccata. Facciamo velocemente un confronto con le altre scarpe top di Nike. Rispetto alle Tempo Next% cosa dici, visto che le hai provate tutte e due, qual è il tuo pensiero? Guarda, vista la Tempo Next, bella scarpa, messa qua di fianco non regge proprio il confronto, sembra quasi una scarpa entry level. Questa mi sembra molto più ben fatta, lo zoom X, ormai si sente la... Chi ha provato lo zoom X sa che è un materiale molto diverso dagli altri, e credo, per ora non ci... Guarda, questo lo dico, è il miglior materiale per ora per l'intensore delle scarpe. Quindi niente, rispetto alla Tempo Next è davvero 5 gradini sopra, secondo me. Non c'è proprio confronto tra le due scarpe. Mi hanno chiesto nei giorni scorsi in pista invece il confronto con le Vaporfly Next. Cosa dici? Ecco, bravo, lì siamo molto simili, te l'ho detto, è cambiata la parte dell'avampiede che la, come si dice, il battistrada è molto più duro, quindi credo che anche sul bagnato non avremmo problemi, anzi. Peccato che le hanno bandite dalla pista, ma una suola così, anche su una pista bagnata, io avevo paura di usare le mie Vaporfly Next% in pista col bagnato, questa non avrei assolutissimamente paura. e niente, c'è questa aggiunta di zoom, di questo air qua davanti, air zoom, che le Next non avevano e molta più gomma, mi sembra. Poi non ho ancora messo una di fronte all'altra, ma mi sembra che ci sia molta più gomma. Sembra quasi un centimetro in più, che non è vero, ma sembra quasi di più. Ok, a livello di calzabilità cosa dici? Guarda, la calzata, ti dirò, questa ho fatto fatica ad inserirla, cioè ad inserirla, a calzare il piede per colpa del collo che ho abbastanza alto, e poi ti dirò, la scarpa è più comoda da allacciare, perché la Next mi si arricciava un pochino la linguetta. e il piede, ah no, ecco, la misura del piede, cioè la misura della scarpa, questa qua è un 27 centimetri e mezzo, invece per la Next avevo preso un 28, che era molto più corta, questa qua invece è perfetta. Ma hai provato la mia versione, che è più piccola? No, ma ho fatto fatica a mettere su questa, e poi il palline mi stava dentro perfetto, non ho bisogno di provare un 27 perché sono sicuro che mi starebbe stretto. E invece una domanda che ci hanno posto è, è aumentato il peso, che impatto secondo te questo può avere sulla performance? Guarda, io l'ho sempre detto, se una scarpa dovesse pesare una Next per cent, se dovesse pesare 350 grammi, userai comunque quella rispetto a una scarpa da 200 grammi, perché comunque il feeling che mi danno in gara è tutt'altro. L'ho sempre detto, una scarpa, ai tempi prendevo le più leggere che c'erano sul mercato, perché volevo le scarpe che erano abbastanza secche, dure, che mi facevano correre forte. Adesso devo dire che con queste scarpe, con tanta gomma, le preferisco, quindi davvero non sto a guardare il peso, ripeto, se pesassero 50 grammi in più le userei lo stesso. Credo che poi il peso in più sia dato dallo zoom, che mi sembra più pesante di uno zoom X, la piastra in carbonio, quella della Vapor, non l'abbiamo mai vista, ma questa mi sembra abbastanza importante, e anche l'intersuola è molto più, e il battistrada è molto più carrozzato, rispetto a quello che c'era sulla Vapor, quindi credo che questo peso in più siano portati da delle migliorie, quindi benvenga. Ultima domanda, quando faremo la recensione completa? Non vorrei mica aspettare una gara, perché non ci saranno queste gare. Guarda, il problema, adesso ti dico, io spero che sia il 13 dicembre a Reggio Emilia, la vedo dura, però campionato italiano nazionale, campionato italiano di maratona, spero che lo facciano, spero, se no sì, la proverò l'anno prossimo, anche perché farci 4 km con questa scarpa sono circa 10 euro. Ti presto la mia, dai, la dobbiamo fare lì. Se la faccio con la tua, facci una maratonentista allora. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ciao Max. Dimenticavo di dirvi che io sono Massi, se vi è piaciuta la recensione, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche, nelle prossime settimane parleremo ancora di scarpe, di tecnologia e soprattutto di tutto quello che gira intorno alla corsa, mi è stato chiesto se parteciperò alla maratona di Reggio Emilia, non ho ancora deciso, io sono un master, non un assoluto e di conseguenza non so se effettivamente questa gara possa essere adatta alle mie caratteristiche. Ad ogni modo, in questo momento così difficile, se potete, running, stay strong e ci vediamo alla prossima. Ciao! Prima ho detto che mi costeranno circa 10 euro a riscaldamento, ma alla fine me la regalate quindi no!